Marcelle Granollers e Ivan Dodig sconfiggono la coppia francese formata da Fabrice Martin Edouard Roger Vaseline, e si aggiudicano il titolo di doppio degli Swiss Indoors Basel. I due sollevano la coppa senza perdere un set, e si piazzano temporaneamente all'ultimo posto utile per le Finals di Londra. Per Granollers si tratta del secondo trofeo consecutivo a Basilea, nel 2016, aveva vinto in coppia con Sock, affrontato e sconfitto quest'anno in semifinale. La finale, durata quasi due ore, è stata combattuta e di ottimo livello. Ognuna delle due coppie scende in campo con i completini abbinati. Bianco per i francesi vestiti dalla costa e blu scuro per la coppia ispano-croata in abiti gioma. Gli spalti sono semideserti. La maggior parte del pubblico, preferisce Big e Lunare tra i numerosi stand dell'Arena in attesa della finale di singolare in programma per le 15.